Tutti i processori per smartphone sono basati su ARM, li fa Qualcomm, li fa Samsung, li fa Mediatek ma non solo, Apple ha abbandonato i processori Intel qualche anno fa e si è fatta i suoi basati su ARM e ora anche Nvidia vorrà creare CPU basate su ARM Intel stessa vuole convertire le fabbriche per produrre processori ARM Che diavolo sta succedendo? Perché? Cioè non dico improvvisamente ma perché c'è questa intensificazione all'uso di ARM e una messa in secondo piano dell'architettura di tutti questi due processori l'architettura x86 che è stata praticamente l'architettura principe per tutti questi anni In questo video cerchiamo di capire un po' di più di quello che sta accadendo nel mondo delle CPU quindi lasciate un mi piace, iscrivetevi, trovate anche i capitoli qui sotto e si va Fermi tutti e dedicatemi 60 secondi anche a me in realtà perché vi svelo un modo semplice per mettervi al sicuro da continui attacchi informatici, furti di identità, furti di password, che più ne ha più ne metta Signori e signore, là fuori oggi su internet è una giungla e nonostante le persone dovrebbero essere più informate e più consapevoli rispetto al passato, mi dispiace per voi ma il livello di sofisticazione dei criminali informatici di oggi, anche grazie all'intelligenza artificiale è in grado di fregare anche coloro che si sentono già dei super guru di tecnologia Quindi grazie a NordVPN, lo sponsor che ha permesso l'analizzazione di questo video e voi dovreste considerare di usare NordVPN perché cripta i vostri dati e la vostra navigazione così se qualche malware cerca di fregarvi dati vedrà solamente dati criptografati illegibili vi permette di accedere a cataloghi, servizi, siti e tutto quello che volete che non è disponibile in Italia o al contrario ai dati italiani quando siete all'estero migliora la privacy perché se appunto i vostri dati sono criptati non vi possono inseguire per il web con le pubblicità mirate e con Threat Protection, che è un sistema integrato in NordVPN avrete una protezione contro i siti malevoli, malvertising e altre minacce del web e potete anche risparmiare cioè perché acquistando magari dei beni, dei servizi, collegandovi prima da un altro paese potete ottenere delle tariffe più concorrenziali e se acquistate il piano biennale di NordVPN avete incluso anche NordPass e finalmente potete iniziare a creare delle password complicate vero? Che state usando password del cavolo? Eh bene, quindi password complicate senza dovervele ricordare se sottoscrivete a NordVPN adesso con il mio link che vedete qui in sovraimpressione qui sotto in descrizione avrete anche un super sconto e anche bene 4 mesi di servizio regalo e se lo fate poi non vi trovate bene? E vi ho dato un cattivo consiglio? Vabbè non è così anche perché avete 30 giorni per ricevere dal servizio e in quel caso non pagate nulla in poche parole provatelo praticamente gratis e vedete come vi trovate e se lo fate ricordate che indirettamente mi state anche supportando per la creazione dei miei video grazie a voi per avermi seguito date un'occhiata qua sotto al link in descrizione grazie a NordVPN senza dilungarci troppo è però importante capire in maniera semplice cos'è l'architettura di una CPU per capire appunto perché c'è questo cambiamento in atto, quello che sta succedendo allora l'architettura è definita come il modo in cui le varie parti all'interno di un chip all'interno di un processore, all'interno di un chip, sono collegate tra di loro cioè la logica con cui sono collegate che è poi la logica che utilizzano per funzionare è un po' come dire che l'architettura di un essere umano definisce il fatto che c'è un cuore collegato a un sistema circolatorio che si occupa di portare come dire tutto il necessario nelle varie parti del corpo e che tutto è gestito da un sistema nervoso controllato dal cervello ecco se abbiamo definito questo che è in maniera super basilare il funzionamento di un essere umano noi vogliamo che un'azione nel nostro corpo avvenga per farla avvenire bisogna tenere in considerazione il modo in cui gli organi sono collegati tra di loro e il modo in cui comunicano quindi se ci immaginiamo noi esseri umani come un computer e vogliamo caricarci un programma che faccia che ne so starnutire ecco lo starnuto deve essere fatto sfruttando l'architettura del nostro corpo che funziona e ragiona in un determinato modo paralleli troppo audaci non voluti quando si parla di architettura di un calcolatore ci si riferisce nello specifico anche a un set di istruzioni cioè potete vedere queste istruzioni come dei comandi che possono essere utilizzati per interagire con la parte fisica dell'architettura per fare un altro parallelo magari anche qua poco è riuscito è come se pensando a un'automobile noi abbiamo la possibilità di attivare istruzioni come accelera, frena, gira a destra e gira a sinistra e con questo set base di istruzioni noi possiamo chiaramente interagire con l'automobile con tutte le sue parti di cui è composta e così riusciamo a guidarla Arma è questa cosa che ho appena spiegato con vari paralleli è un'architettura più nel dettaglio è un'architettura RISC che è una sigla che sta per Reduced Instruction Set Computer e si contrappone a CISC che invece significa Complex Instruction Set Computer e quest'ultima la CISC è praticamente alla base dell'architettura x86 dei processori che hanno sempre dominato ancora dominano in realtà buona parte del mercato e lo hanno fatto per moltissimo tempo definire CISC cos'è CISC ci permette di capire che RISC invece è un'architettura semplificata con un set di istruzioni limitato rispetto alla CISC cioè meno istruzioni, meno metodi di accesso alla memoria, formati di istruzioni fisse non variabili e altre differenze RISC offre dei vantaggi su CISC che sono tutte legate alla sua semplicità cioè avendo un set di istruzioni più basilari la creazione dei chip stessi che la utilizzano è meno complessa e con meno complessa significa avere una maggior resa produttiva perché i chip sono più facili da creare e anche un time to market più veloce cioè la progettazione stessa del CPU essendo più semplice porta alle aziende a impiegare meno tempo per creare delle nuove CPU e dei nuovi chip in generale al contrario CISC è più complessa quindi cosa cerca di fare? Di implementare la possibilità di effettuare operazioni più complesse operazioni più complesse necessitano di una struttura più complessa questo approccio permette di semplificare la parte di programmazione ma poi chiaramente per sviluppare, per fare queste azioni è necessario più tempo sono necessari più cicli di clock per essere portati a termine la minor complessità dell'architettura RISC permette di creare sia hardware più efficiente come detto perché è più semplice ma la complessità da qualche parte deve andare si sposta maggiormente sulla parte software poiché è necessario ottenere gli stessi risultati però utilizzando un set di istruzioni più contenuto altro parallelo, se con CISC noi abbiamo un'operazione che permette di cliccare un bottone e fare il parcheggio automatico come nelle auto e quindi è codificata all'interno dell'architettura il come effettuare il parcheggio automatico il RISC non c'è, il RISC c'è solamente quello che dicevo prima accelera, frena, vai a destra, vai a sinistra di conseguenza per effettuare il parcheggio bisogna muovere e dare molti più comandi rispetto all'altra architettura che è più complessa in cui basta schiacciare un pulsante quindi il parcheggio con CISC è un comando a livello software ma il parcheggio con RISC invece è un sacco di comandi perché bisogna dare tutte le istruzioni detto questo, sperando di aver passato i concetti anche in questa maniera un po' strana non si può dire che per forza l'approccio RISC sia migliore perché se così fosse, esistendo questi approcci da sempre per quale motivo l'industria invece per tutti questi anni ha adottato CISC? e rispondiamo a questa domanda in passato CISC è stata la scelta principale l'X86 di Intel è praticamente un'architettura CISC sotto steroidi, se vogliamo, potenziata questa scelta fu fatta precisamente perché molti anni fa era necessario, insomma, sviluppare un'architettura che potesse creare fare calcoli più complessi ma che sfruttasse in maniera efficiente la memoria proprio per una questione di rapporto costo-beneficio realizzare la memoria era molto costoso e quindi sembrò, come dire, la scelta più corretta poi piano piano i tempi passavano i software che veniva sviluppato e che utilizzava l'architettura X86 era sempre più complesso ce n'erano sempre di più e quindi fu naturale, come dire, proseguire l'evoluzione fino ai giorni nostri ma ora i tempi sono cambiati le piattaforme di sviluppo software sono diventate molto più complesse nel senso più potenti non complesse da utilizzare, ma più potenti loro permettono quindi di realizzare dei software in maniera più veloce anche se sono molto complessi e questo è molto positivo per l'architettura ARM perché possiamo considerare che se un'architettura CISC scusate, se in un'architettura CISC è l'hardware a essere il più complesso il software a essere meno complesso corrisca il contrario, come dicevo ma ora è possibile spostare il carico sulla realizzazione del software senza particolari problemi perché i compilatori, i sistemi per creare i software sono estremamente più evoluti oggi è un'architettura più efficiente oltretutto a livello hardware è molto importante non solo perché consuma di meno perché chiaramente tanti dispositivi sono dispositivi mobili ma anche perché è possibile creare potenzialmente processori con unità più specializzate e in grande quantità, in gran numero che possono a conti fatti andare a sviluppare, a gestire una grande quantità di dati senza diventare super energivori il modo di effettuare computing oggi è diverso e sarà sempre più diverso l'avvento dell'IA ha spostato il focus da unità general purpose cioè unità in grado di fare tutti i tipi di calcoli in unità più specializzate che fanno solamente un tipo di calcoli e siccome in futuro questa cosa sarà ancora sempre più vera sempre più normale allora ha senso oggi prendere la strada di ARM soprattutto perché meno complessità significa anche risparmi produttivi o al contrario miglior resa produttiva oltretutto questa cosa lo specifico ancora oggi siamo a un punto dove la creazione di software non è più un limite in passato era necessaria ad esempio la riscrittura totale di un software per farlo funzionare su un'architettura differente e ciò portava via molto 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 tempo e poi non c'erano i prodotti quindi era praticamente anticoncorrenziale oggi non solo è possibile riscrivere software in maniera più veloce ma il mercato ha già anni di sviluppo software alle spalle dato che è tutto il mondo mobile da un sacco di tempo che è basato su ARM e Apple ad esempio ha già mostrato come possono esserci soluzioni intermedie di traduzione del software per adattare nel frattempo per un'altra architettura come abbiamo visto con il passaggio da Intel ai processori ARM come auto prodotti da Apple con Rosetta che si permetteva che gestiva praticamente la traduzione ecco insomma ci sono tutti gli elementi per il passaggio a un'architettura oggi che sembra più compatibile con l'attuale evoluzione del mercato e soprattutto nel modo in cui i software stanno evolvendo intelligenza artificiale e unità specializzati per l'IA in cima a tutti questo è il motivo, i motivi in realtà principali perché c'è così tanto interesse tanto fervore attorno a questa architettura che esiste da tantissimo tempo ma che piano piano certo ha iniziato dalla parte mobile ma che diventerà praticamente molto probabilmente una buona parte dello standard per tutti i dispositivi tecnologici del futuro grazie amici per avermi seguito in questo video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video ciao ciao